Ciao a tutti siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera voglio presentarvi a Maurizio Maurizio ha 19 anni e cerca la sua anima gemella Ciao Maurizio Ciao Quanti anni c'hai? 19 anni E cerchi la tua anima gemella? Sì Allora Maurizio dimmi e tu lavori? Sì Che lavoro fai? Muratore Dove lavori? A Tre Fontane A Tre Fontane e tu sei di Tre Fontane? Sono di Castelvedrano però abito a Campobello Esatto e come dovrebbe essere questa ragazza? L'ideale? L'ideale è bionda, alto come me, occhi azzurri e simpatica Alta come tu, hai detto alto come te Dici ai telespettatori quanto sei alto? Un metro e 68 Un metro e 68 Maurizio è alto 1,68, c'è gli occhi azzurri, i capelli biondi per cui vedete voi stessi il tipo di uomo che è E allora, che cosa interessa a te in questa ragazza? Il carattere esteriore oppure l'aspetto fisico? Sia l'aspetto fisico sia il comportamento che c'ha Il carattere? Cioè secondo te contano tutti e due? Dovesse avere il carattere giusto, ideale Quanti anni dovrebbe avere? 20, 21 anni, magari così va bene Anche se è più grande di te non ci fa niente? Non ci fa niente, però deve essere magari maggiorenne all'età mia, non deve essere magari minorenne a farsi fidanzato, capito? Esatto Dimmi Maurizio, parliamo di hobby, quali sono i tuoi hobby? Come passi la giornata? La passo la giornata lavorando e poi vado a casa Poi mi lavo e poi mi sto a guardare la tv Poi se c'è di addormento vado nella mia stanza E ti addormenti lo giuro? Sì Sempre se hai sonno? Sì A volte mi sento con canzoni napoletane Solo napoletane oppure ascolti anche canzoni di discoteca? Sì, a discoteca sì napoletane, però mi piacciono troppo assai le canzoni napoletane Ti fanno riflettere all'amore? Sì, certe cose sì, sia l'amore sia da tante cose Esatto, quindi la tua ragazza dovrebbe avere i tuoi stessi requisiti o per te non ha importanza se non piacciono le canzoni napoletane? No, se a lei ci piace le canzoni di discoteca va bene, le sentiamo, però se non ci piace le canzoni napoletane va bene anche lo stesso Ti ci abitui diciamo? Sì, sì, mi ci abitui lo stesso, canzoni napoletane o discoteca è lo stesso Dimmi, per quanto riguarda invece i divertimenti, a te piace andare in discoteca? Sì, molto Ti piace molto ballare? Sì, pur se non so ballare giusto, però mi piace ballare Hai un carattere dolce? Ogni tanto, se c'è qualcuno che mi fa arrabbiare oppure mi toccano agli amici e mi arrabbio e gli parlo per dirci cosa c'hai, che problemi hai Poi si danno delle botte e poi mi arrabbio anch'io Certo, è logico Sì, qualsiasi ragazzo fa queste cose E scetto, se ti danno delle botte logicamente non è che puoi ridere Certo Va bene Maurizio, abbiamo detto ai nostri telespettatori le tue caratteristiche Se c'è qualche ragazza interessata a Maurizio può rivolgersi a Strano Amuri Siciliano Noi siamo sempre in corso con la Tafimi a Marsala chiamando i nostri numeri in sovraimpressione Bene, questo è tutto da Alberto, ciao da Alberto, ciao amici di Strano Amuri Siciliano e ciao da Maurizio Arrivederci, alla prossima, ciao Grazie